Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, tanto per cambiare, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, cari signori, come forse ben ricorderete qualche giorno fa ho accennato al fatto che avrei cominciato a parlare delle cosiddette Wunderwaffen, le armi meravigliose, le super armi che, come dire, tanta fortuna hanno, come dire, dato a modellisti, a scrittori, giornalisti, artisti che si sono sbizzarriti nel valorizzare, come dire, qualsiasi scarabocchio di fantasia, più o meno di fantasia, uscito dalle penne e dai tecnigrafi dei tecnici tedeschi tra il 1942 e il 1945. Perché, siamo sinceri, tante, lo ripeto, tante delle cosiddette Wunderwaffe erano soltanto progetti di massima, erano soltanto belle idee, erano soltanto cose troppo avanti per la tecnica dell'epoca. E questa, diciamo, mania del guardare troppo avanti, del cercare, come dire, a tutti i costi la soluzione tra virgolette, mi si passa il termine, elevata, iper sofisticata, iper tecnologicamente raffinata, fregò, se vogliamo, bellamente i tedeschi che trascurarono armi che avrebbero potuto avere un impatto ben maggiore, ben più importante delle cosiddette armi meraviglia. Perché? Allora, vi dico semplicemente questo. Allora, le W2, le W1, i vari progetti di caccia, di sofisticati, e raffinatissimi, aerei jet, di tutti i tipi, di tante cose così, il Backham Natter, vi ricordate che abbiamo parlato qualche mese fa del Backham Natter, il Cottolengo Airplane, che venne sviluppato perché non si riusciva, cioè venne ideato il Backham Natter, ricordatevi, perché non si riusciva a sviluppare un decente sistema di radioguida per i missili, per i per i missili a terra aria, per i missili antiaerei che la Luftwaffe aveva allo studio. E diciamo che non si riuscì neanche a mettere in produzione e a, come dire, mettere in servizio, anche un'arma estremamente interessante e che avrebbe potuto avere un grande impatto nella guerra nei cieli in Germania alla fine del conflitto. Parliamo di questo, eccolo qua, il Rurstal Kramer 344, detto anche X4, il primo missile aria aria guidato. La fonte è il numero 34 di aerei nella storia del marzo 2004. L'articolo è scritto da Giancarlo Marcozzi. Allora, il Rurstal Kramer 344, detto anche X4, fu il primo missile aria aria guidato. Era filo guidato, un'arma che era, come dire, estremamente promettente, un'arma che era estremamente interessante perché, come dire, a 6.000 metri di quota poteva colpire, senza alcun problema, un aereo lontano 3.200 metri. Insomma, una performance, diciamo, tutt'altro che disprezzabile, se vogliamo. Il Kramer X4, ecco qua, questo è il Tre Viste, eccolo qui, spero che si veda bene. Il 344, il Kramer X4, era un missile filo guidato. Aveva, come dire, lungo poco meno di due metri, pesante circa 60 chili, compresa la testata bellica. Era un'arma più che promettente, ma, 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 come sempre si tratta nel fatto del Wunderwaffen, non riuscì mai ad essere montato sui Messerschmitt 262, di cui avrebbe dovuto costituire l'armamento principale. I Messerschmitt 262, come dire, avevano già cominciato ad usare razzi, come dire, tra virgolette, chiamiamoli così, stupidi, cioè, ovvero sia, ehm, usavano, ehm, come dire, sì, Messerschmitt 262 usava già sparare razzi antiaerei, però senza alcun sistema di guida, razzi cosiddetti, tra virgolette, stupidi, ecco. E una, un'arma, lo X4, che, ehm, avrebbe potuto essere, non dico avrebbe potuto ribaltare le sorti della guerra, perché, oramai, nel 1945, siamo sinceri, la Germania era letteralmente la canna del gas, ripeto, da una parte il martello anglo-americano e dall'altra l'incudine sovietica. Era soltanto questione di tempo. Poi c'è sempre stato il solito classico problema del disordine produttivo tedesco, dell'incapacità tedesca di focalizzare le poche risorse disponibili su progetti che potevano funzionare bene. No, ve l'ho detto tante, tante volte. Ho citato i lavori di Ian Hogg, ho citato i lavori di George Markham, ho citato anche i lavori di John Wicks, che parlano ampiamente del disordine, dell'incapacità di coordinamento dell'industria bellica tedesca. E non credo che sia il caso di andare nuovamente a rivangare l'argomento, perché ne abbiamo già parlato abbondantemente e con dovizia di particolari. Ripeto, il Rurstal Kramer X4 poteva essere veramente una buona arma economica ed efficace per colpire a distanza di sicurezza con i Mesh Smith 262 le formazioni di bombardieri americani. Ma ahimè, questo interessante progetto, eccolo qui, di nuovo il Tre Viste, non fece in tempo ad essere utilizzato, perché? Le prove, il progetto, le ricerche, i tentativi continui di trovare la raffinatezza tecnica che castrarono, il programma. C'era dire che però si trattava di un programma che fu concepito veramente in pochi mesi e che si arrivò alle prove, cioè si arrivò ad un passo dall'entrata in servizio. Oltre che sul 262 furono fatte anche delle installazioni, come in questo caso, come in questa foto, sul Focke-Wulf 190. Eccolo qui. Avrebbe potuto, come dire, essere veramente un'ottima soluzione economica e di facile uso per contrastare i bombardieri americani. Ma ahimè, 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 la Germania nei mesi finali della guerra, diciamo, tutto era in grado di fare, tranne che di agire lucidamente nella gestione della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove armi. Lucidità che in Germania non ci fu mai, ricordiamocelo questo. Ripeto, non è un'opinione mia. Ci sono fior di esperti che lo hanno detto, ci sono i dati che parlano. Centinaia, centinaia, centinaia e migliaia, diciamoci di verità, di progetti più o meno campati in aria che si sottraevano preziose risorse a vicenda. che vi devo dire? Ve lo dico sempre, che vi devo dire? Io allargo le braccia, rivolgo lo sguardo al cielo con fare sconsolato e dico, eh, se erano talmente, come dire, presi dalla loro mania di superiorità tecnologica, io non ci posso far nulla. I dati parlano estremamente chiaro. Cioè, lo X4, ripeto, eccolo qua, lo X4, ripeto, sarebbe potuto diventare un'arma, come dire, fondamentale nell'arsenale tedesco. Era stato sperimentato fin dal 1942. Ci furono anche, come dire, altri missili, sia aria-aria che terra-aria, studiati per, come dire, contrastare le incursioni di bombardieri americani diurni. Per i bombardieri, insomma, per i bombardamenti notturni inglesi, lì, insomma, c'era un po' poco da fare per dei razzi che avevano un puntamento a vista. Ma, dicevo, ci sarebbero stati armi, razzi, ne parlerò anche in seguito, razzi antiaerei come, per esempio, lo Schmetterling, il Reintotter, l'Ensian, il Feuerlilie, il Wasserfall, che avrebbero potuto veramente avere un impatto ben maggiore sulla guerra aerea nei cieli della Wehrmacht rispetto addirittura agli stessi Messerschmitt 262. Ma, ma, la confusione della ricerca bellica tedesca colpì anche, in questo caso, impedendo lo sviluppo di armi estremamente promettenti, ripeto, eccone qua un altro, come lo X-4. Questa è un'altra foto. L'articolo di, cioè, come dire, l'articolo di Marcozzi è piuttosto esaustivo in, cioè, come dire, è piuttosto esaustivo in proposito, cioè, spiega la Genesi molto rapida, molto, se vogliamo, affrettata, ma sorprendentemente era un'arma, ripeto, che funzionava piuttosto bene. Logicamente, i soliti problemi di affidabilità, insomma, siamo sinceri, nessuno nasce imparato, dice il proverbio, tranne imparato che, tranne Pasquale che imparato fa di cognome, ma, scusate la battutaccia, ma ogni tanto mi scappa. Allora, il fatto è semplicemente questo, che la mancanza di lucidità, la mancanza di coordinazione, ripeto, è un concetto che va spiegato sempre, che va tenuto sempre in conto quando si parla delle armi meravigliose tedesche. La mancanza di lucidità del regime nella ricerca bellica, la concorrenza spietata che i vari studi si facevano fra di loro, la concorrenza spietata che c'era fra le varie industrie, la concorrenza spietata che c'era tra i vari progettisti, per dividerci le risorse, per dividerci i soldi, per fare bella figura di fronte al Führer. Anche questo c'era. Sì, la vanità dei progettisti che si facevano belli di fronte al Führer, sbandierando straordinarie prestazioni ipotetiche di armi che poi sarebbero state pressoché inutilizzabili, ma che colpivano l'immaginazione o di Hitler o dei gerarchi o di questo o quel gerarchio vicino a cui non sembrava vero di avere fra le mani l'arma fantastica che avrebbe potuto ribaltare le sorti della guerra. E un'arma promettente come lo X4 ripeto, un'arma promettente come lo X4, eccone qua un disegno e uno spaccato, sempre dall'articolo di Marcozzi da Aerei nella storia. Dicevo, un'arma promettente come lo X4 finì ammazzata praticamente in culla perché non c'era più tempo, non c'erano più risorse, si era perso tempo, si era perso risorse, si era sprecata tanto tempo, tanta energia, tante risorse per sviluppare armi inutili rispetto al Rurstal Kramer X4 che fu il primo missile aria aria guidato della storia che non fu mai impiegato in azione. Esistono, come vedete, eccone qua un'altra, alcune sue foto in volo durante dei collaudi con il lancio da rampe a terra, ma ahimè non fu mai possibile impiegarlo operativamente. Ripeto, il motivo è semplice. La mancanza di coordinazione, la mancanza di lucidità nella programmazione della ricerca bellica tedesca, l'incapacità di capire che in guerra si deve usare e costruire quello che è più semplice, più facile e più immediatamente producibile. Lo X4 avrebbe fatto, sarebbe stato dannatamente utile alla Luftwaffe e ai piloti dei Mercedes-Benz 262, ma non fu mai, e ripeto e sottolineo, mai possibile usarlo operativamente perché? Perché si sprecava tempo in altre ricerche. Ripeto, ripeto, per sopperire ai problemi che davano i sistemi di radioguida dei vari, non tanto dell'OX4, ma degli Schmetterling o degli Enzian, che erano missili radioguidati, si giunse a sviluppare il Backham Nutter, che, come dire, più cottolengo airplane di quello lì, ci ho fatto anche un video se vi ricordate, ecco, cioè più cottolengo airplane di quello lì, io non so come cazzo definirlo, è uno spreco di soldi, di tempo, di risorse e soprattutto della preziosa vita umana di un abilissimo pilota collaudatore, quello sia il defunto tenente Lothan Sieber. Insomma, Rurstal Kramer X4, un'arma, una Wunderwaffen, che non fu mai usata operativamente, che avrebbe potuto avere un impatto significativo nel corso della guerra, ma che non fu mai messa in servizio, perché? Troppo tardi e si sprecò troppo tempo alla ricerca, come dire, insomma, la classica cosa tedesca dello stare sempre a ciurlare nel manico alla ricerca della finezza. Tutto qui. Quindi, cari signori, io aspetto, come sempre, le vostre considerazioni. Questo è il primo video, tra virgolette, che dedico alle Wunderwaffen e spero che vi sia piaciuto. Aspetto, come sempre, i vostri commenti, aspetto, come sempre, le vostre considerazioni. Eccolo qui, di nuovo, il Treviste. Rurstal Kramer X4, il primo missile aria-aria guidato, era guidato tramite filo, della storia dell'aviazione. Una primizia che però purtroppo non fu mai sviluppata a dovere. Mancanza di tempo, mancanza, come dire, di coordinazione, come sempre, quando si tratta di ricerca bellica tedesca. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione. Ripeto, aspetto i vostri commenti e le vostre considerazioni. Fatevi sentire e grazie mille per, nuovamente, per l'attenzione e buonanotte.